Ciao a tutti, vi volevo accompagnare a far vedere, a guardare insieme la nostra scuola che vi aspetta, qua c'è la nostra aula Napoli, con quelle poltrone rosse famose che conoscete sicuramente, con la bandiera, quadri eccetera, ecco, vi aspettiamo qui, c'è anche la finestra, ovviamente quadri di nuovo, anche se non si vedono tanto, forse ho dato un tocco per schiarire un po', poi andiamo, giriamo a destra e andiamo verso, oh, qua c'è la maglietta tricolore, azzurra ovviamente, azzurra, si vede? Si vede, no, non tanto, ci avviciniamo, forse diventa più blu, eh sì, oh, adesso si vede benissimo, e poi giriamo a sinistra, questa è la nostra piccola aula Venezia, ecco dove si svolgono le lezioni di gruppi più piccoli, ecco qua, sempre con le foto di Maurizio, oh, qua c'è un bel regalo fantastico che abbiamo ricevuto dal nostro gruppo famosissimo, sì, ecco, che purtroppo ha smesso di studiare quest'anno perché non trova più tempo, e poi andiamo avanti, e questa è l'aula Roma, ecco qua, la bandiera si è staccata, però la riattacchiamo per un attimo, sicuramente, ecco qua, no, ecco come c'è la lavagna, il proiettore, dove vediamo questi programmi televisivi, anche video didattici, ovviamente, soprattutto video didattici, oh, qua c'è Mauri, ancora, con le sue foto, ecco qua, dalla finestra si vede il centro della cultura, eh sì, allora, e poi possiamo tornare qua, trovate sicuramente i vostri appunti quando mancate a lezione, no, ecco, quando saltate una lezione, e no, cioè possiamo, potete trovarci qua i vostri appunti, no, ecco, questo è il nostro angolo caffè, no, ecco, dove si prepara quel nostro famoso caffè, no, ecco, che bevete sempre, che è sempre in offerta, va bene, andiamo avanti, e vediamo un po' le cartoline che ci mandate, siete molto gentili, e una locandina, un poster, no, di un film made in Italy con Kasia Smutnik, che abbiamo visto al cinema un tempo fa, e poi qua c'è il bagno, no, dentro non c'è niente di interessante, no, ecco, delle cose, sì, va bene, e qua c'è il nostro ufficio, dove prepariamo le vostre lezioni, c'è come sempre un po' di caos, come vedete, no, ecco che è la lampada della mia bisnonna, la moglie del famoso Filippo Terraro, ecco, questo è tutto, grazie.